Un nuovo appuntamento con l'informazione qui su e-live. Oggi in prima pagina abbiamo una protesta, in realtà un flash mob avvenuto ieri a Milano dove un gruppo di infermieri davanti al Palazzo Pirelli e alla stazione centrale ha protestato per chiedere chiarezza dopo questa emergenza coronavirus alle istituzioni sul futuro della loro professione. Durante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus in Italia gli infermieri sono stati tra i protagonisti in prima linea per salvaguardare le migliaia di pazienti ricoverati insieme a tutto il personale sanitario. Oggi il NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha organizzato un flash mob davanti a Palazzo Pirelli e alla stazione centrale per far sentire la voce di uomini e donne che dopo il momento critico dell'emergenza nel nostro paese ora vogliono risposte dal governo sul futuro della professione. L'uscita dal comparto per un contratto per gli infermieri, il valorizzare la professione infermieristica, l'avere a disposizione la possibilità di poter essere riconosciuti non come eroi ma come veri professionisti. Da 20 anni ci chiediamo al governo di poter avere una contrattazione degna di quello che è l'infermiere, una contrattazione che ci permetta di essere maggiormente autonomi, che ci venga riconosciuto uno stipendio adeguato a quello che sono gli stipendi europei. Non ci sta bene l'attuale struttura del sistema sanitario nazionale, in particolare in Lombardia si è evidenziato quante criticità questo possa avere e allora noi come si evince anche dal cartello che c'è qui alla mia sinistra, dove riassumiamo le nostre rivendicazioni, vogliamo innanzitutto che si utilizzi un metodo diverso per il calcolo dello staff assistenziale. Attualmente si usa un metodo obsoleto, vecchio di 30 anni, ormai non più attuale, che è quello del minutaggio assistenziale. In realtà noi vogliamo che si utilizzi un metodo più moderno basato sulla complessità assistenziale, che vuol dire che se un reparto ha tanti pazienti difficili e ha bisogno di più personale, e un reparto che ha meno pazienti difficili ha bisogno sicuramente di meno personale. E ora vi porto per un attimo sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv per dare un'occhiata alla notizia di questo flash mob di Milano, che il prossimo lunedì arriverà anche nella nostra città. Infatti 100 infermieri, non più di 100 appunto proprio per garantire rigorosamente le distanze di sicurezza, si troveranno alle ore 10 in Piazza Loggia per un flash mob, dove questi 100 infermieri, senza striscioni, senza stemmi, senza scritte, senza riferimenti politici o ad associazioni, insomma protesteranno per chiedere lumi sul loro futuro con un palloncino rosso in mano che verrà lanciato, verrà lasciato volare in cielo nel momento clou della manifestazione. Restiamo però sul nostro sito internet per dare un'occhiata all'aspetto coronavirus, ai dati della giornata di ieri comunicati da Regione Lombardia e come vediamo appunto dal titolo i numeri che fanno ben sperare. Infatti, nonostante il numero dei tamponi sia stato abbastanza alto, quindi oltre 9.000-9.305 per la verità e per la precisione, nella nostra provincia si sono registrati solo 12 nuovi positivi e per il secondo giorno consecutivo ATS non ha registrato decessi a causa del Covid. Per quanto riguarda invece i numeri a livello regionale, i nuovi positivi anche qui abbastanza ridotti, sono 99 sotto quota 100, così come le terapie intensive che però purtroppo salgono di altri due ricoveri. Non hanno ancora fortunatamente sfondato nuovamente in negativo la quota di 100 ricoveri, sono al momento 98. Rientriamo quindi in studio con la notizia che abbiamo appunto dato ieri del Premier Conte insieme a suoi due ministri, quindi il ministro Speranza e il ministro Lamorgese, sono stati convocati, come è avvenuto la scorsa settimana, per il Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana, e per l'assessore al welfare Giulio Gallera, appunto sono stati convocati in procura a Bergamo per riferire, per essere interrogati dai PM come persone informate dei fatti, per la mancata istituzione delle zone rosse di Alzano e Nembro. Ieri Conte ha rilasciato qualche breve dichiarazione dicendosi sereno per questo appuntamento che ci sarà venerdì. Non sono affatto preoccupato, non è un atteggiamento di arroganza, non è un atteggiamento di sicumera, non commento le parole del procuratore che le ha citato, che sono state anticipate alla RAI, ci confronteremo venerdì, riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza, piena serenità. Tutte le indagini, le inchieste benvengano, i cittadini hanno il diritto di conoscere e noi che abbiamo responsabilità istituzionali di rispondere in tutte le sedi istituzionali e anche di fronte ai cittadini, anche qualche volta informalmente. Da questo punto di vista, se c'è una richiesta di indagine parlamentare, non spetta al Presidente del Consiglio un commento. Evidentemente è un'iniziativa parlamentare e il Parlamento deciderà, come pure se c'è un'inchiesta a parte della Procura di Bergamo, è giusto che anche il Presidente del Consiglio si renda subito disponibile come persona informata sui fatti. Ripeto, il mio è un atteggiamento sereno, ma non di chi ostenta un'arroganza, una presunzione, di chi ha agito in scienza e coscienza. Ogni volta che ha preso una decisione, delle volte anche molto difficili, perché ci sono dietro tantissimi decessi, tanta gente che ha sofferto. È stata una pandemia e lo è ancora, una pandemia che ci sfida ed è una prova molto difficile. Però io sono sereno con la mia coscienza e anche, diciamo, essendo stato affiancato insieme ai ministri da persone competenti, esperti, abbiamo cercato di fare veramente tutto il possibile per salvaguardare la nostra comunità nazionale. Ormai è ufficiale. L'attuale direttore generale degli spedali civili di Brescia, Marco Trivelli, è stato nominato, è stato chiamato in Regione appunto per dirigere la sanità lombarda. L'ufficialità l'ha data il Presidente Attilio Fontana con una dichiarazione, augurandogli buon lavoro in attesa della delibera che lo dovrebbe vedere insediato fra pochi giorni. Il Dottor Luigi Cagliazzo sarà al mio fianco con l'incarico di Vice-Segretario Generale della Regione per coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria, ha detto il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della nomina di Marco Trivelli alla dirigenza della sanità lombarda. Mi complimento con lui per il lavoro fin qui svolto in un momento particolarmente difficile. L'incarico di Direttore Generale dell'Assessorato al Welfare sarà assunto con una delibera che verrà approvata nei prossimi giorni dal Dottor Marco Trivelli al quale auguro fin da ora buon lavoro. Lo stesso Cagliazzo ha poi ringraziato per la nuova nomina, augurando a sua volta buon lavoro a Trivelli. A Marco Trivelli, del quale ho grande stima, va il più affettuoso augurio di un buon lavoro nella certezza che continueremo a collaborare con quella serenità e quella armonia che hanno sempre contraddistinto i nostri rapporti. Rientriamo nella nostra provincia dove nei giorni scorsi era scoppiata una polemica quando ANAS aveva annunciato che avrebbe effettuato dei lavori sulla strada statale 45 bis, meglio conosciuta come Gardesana Occidentale, che sarebbe stata chiusa al traffico in un momento già di importante crisi per il turismo del Garda a causa dell'emergenza coronavirus, sarebbe stata un'ulteriore batosta. Ieri però la decisione, che fortunatamente hanno preso la politica e ANAS stessa, di effettuare questi lavori solo di notte dalle 23 e non nei fine settimana. Alla fine ha vinto il buon senso. I lavori stradali sulla Gardesana saranno effettuati in orari notturni per evitare di danneggiare ulteriormente gli operatori turistici già colpiti dall'emergenza Covid. Lo hanno detto gli assessori regionali Claudia Maria Terzi e Fabio Rolfi, che ieri pomeriggio hanno presieduto il tavolo regionale su questo tema. Presenti anche i funzionari di ANAS e il presidente della comunità montana Alto Garda, Davide Pace. I lavori inizieranno il 15 giugno, hanno aggiunto, e saranno effettuati per tre settimane dal lunedì al giovedì dalle ore 23 fino alle 6 del mattino. Una bella notizia per tutto il territorio del Garda, che giustamente si era unito nel denunciare l'assurdità di eventuali lavori diurni in questo periodo. Stiamo parlando di uno dei motori turistici d'Europa e non era pensabile bloccarne una delle arterie principali proprio all'inizio della stagione estiva, dopo che ANAS aveva avuto tutti i mesi del lockdown per eseguire i lavori. La cronaca ora con un pregiudicato di Darfo, che si trovava agli arresti domiciliari, e durante un controllo è stato trovato in possesso di un etto di cocaina. Il giudice per lui ha disposto il ritorno in carcere. I carabinieri di Darfo lo hanno trovato in possesso di un etto di cocaina mentre era agli arresti domiciliari. Il giudice lo rimette in carcere, ma quando i militari vanno a notificare la nuova misura cautelare, ne trovano altri 10 grammi. Si tratta di un pregiudicato 57enne, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, ma nemmeno gli arresti domiciliari lo avevano fatto desistere da questa attività illegale. Durante un permesso di uscita per necessità di tipo sanitario con la sua convivente, infatti, l'uomo è stato ritrovato in possesso di un etto di cocaina. I militari hanno arrestato entrambi, portandoli presso il loro domicilio, ma data la recidiva, il giudice ha deciso di farlo tornare in carcere. Quando i carabinieri hanno suonato il campanello della dimora dell'uomo, però, visto il suo strano comportamento, hanno deciso di effettuare un'ulteriore perquisizione che ha portato alla luce altri 10 grammi di cocaina che gli sono valse una nuova denuncia. Ora torniamo in città dove ieri sono stati presentati in Piazza Vittoria i nuovi autobus del trasporto pubblico urbano, autobus moderni, ovviamente, e più ecologici, che fanno della flotta bresciana la prima in Italia a non utilizzare più carburanti inquinanti come il gasolio. Sentiamo però le vive parole dell'assessore Manzoni. Terza presentazione che facciamo negli ultimi anni in questa piazza dei nuovi bus. e se notate è stato, diciamo, un elemento che ha dimostrato il salto di qualità importante che l'azienda ha fatto in questi anni nel ambito della propria politica di rinnovo della flotta. Quel risultato che io non mi stancherò mai di ricordare come un risultato unico nel suo genere che fa di Brescia la prima e per il momento anche unica città in Europa che non ha più autobus, diesel, gasolio in funzione nella sola area urbana. dei fatti più concreti tangibili e positivi che sono stati messi in campo in questi anni. Quindi è una politica che non si ferma non ci si è fermati al fatto di completare la metodizzazione ora la si svecchia perché una flotta giovane è una flotta che dà meno poveri di manutenzione è una flotta che è più performante in termini di servizio ed è una flotta che è anche più al passo con l'evoluzione tecnologica. La solidarietà ora nella nostra città con una bella iniziativa 3.600 oltre 3.600 euro in buoni spesa da spendere in beni di prima necessità per le famiglie che insomma hanno sofferto questa crisi coronavirus anche dal punto di vista economico ci ha raccontato di cosa si tratta l'assessore del comune di Brescia Roberta Morelli puntando anche sul fatto che questa iniziativa è totalmente trasparente C'è stato proprio un insieme di associazioni che si sono consorziate voglio ricordare UNCI che è l'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia presieduta dal dottor Guido De Santis Arnaldo da Brescia e Brescia 2030 oltre alcuni privati hanno fatto una serie di donazioni e con queste donazioni noi abbiamo fatto dei bonifici a Copp Lombardia che ci ha erogato una serie di buoni acquisto da 40 e 50 euro riconoscendo il 10% di sconto quindi sconto che abbiamo caricato per farci dare più buoni acquisto sono stati distribuiti e sono ancora in corso di distribuzione a famiglie bresciane che hanno necessità e che quindi hanno la possibilità di andare alla Copp con questa carta carta caricata con 40 o 50 euro per cui possono fare la spesa fino a questi importi ecco molto importante che tutto registrato tutto rendi contato e tutto super trasparente assolutamente tutto rendi contato al centesimo per cui i donatori hanno l'elenco delle famiglie che ricevono si può verificare in qualunque momento c'è la protezione civile i paracadutisti che portano alle famiglie i buoni in alcuni casi anche abbiamo fatto la spesa e crediamo che fondamentale sia la trasparenza per cui agiamo in questo modo i presidenti delle associazioni hanno l'elenco di chi riceve è un grazie e benvengano queste iniziative delle associazioni ma anche da parte di privati come siano benvenuti anche i passi verso la nostra nuova normalità dopo questa emergenza sanitaria e torna anche il sport nei parchi bresciani un'iniziativa appuntamenti per praticare un po' di sport all'aria aperta da qui diciamo all'estate sentiamo cosa ha detto l'assessore Cantoni la nostra città gode di parchi stupendi quindi anche quest'anno torna lo sport al parco ovviamente sarà un'edizione diversa da quella che tutti conosciamo perché dovremmo tenere conto delle varie disposizioni del dpcm e delle disposizioni regionali ma questo non toglie il fatto che un po' di sano movimento magari un po' più statico e di impossibile socializzazione possa essere una cosa gradita ai nostri cittadini quindi abbiamo 19 corsi ogni corso prevede due lezioni a settimana e sono distribuite in tutti i parchi della nostra città come si accede al corso basta presentarsi nell'orario indicato sul volantino che trovate sul sito istituzionale sulla pagina del comune di Brescia su facebook su quella di instagram o addirittura Bresciagram per chi ha telegram dove trovate quindi tutte queste informazioni e potete accedere al corso semplicemente presentandovi ovviamente dovete arrivare con la vostra mascherina poi durante l'attività fisica la mascherina può essere abbassata sotto il collo abbiamo già sfiorato l'argomento sport quindi apriamo ufficialmente la nostra pagina sportiva con quella che in tutti gli effetti si è trasformata in una vera e propria telenovela infatti forse la persona più seguita dalla nostra provincia ieri Balotelli è tornato ad allenarsi a Torvole era atteso in mattinata in mattinata non era arrivato è arrivato attorno alle 19 e sembra che si sia allenato anche questa mattina però sempre in solitaria quindi è guerra aperta Mario Balotelli ieri è tornato ad allenarsi otto giorni dopo la sua assenza ingiustificata per la società ma giustificata da un certificato medico secondo il giocatore l'attaccante bresciano ha nuovamente varcato i cancelli del centro sportivo di Torvole e Casaglia dopo le porte chiuse di martedì nella serata di ieri Super Mario è arrivato a Torvole e questa volta gli è stato permesso di entrare ad attenderlo pochissime persone nessuno della dirigenza in realtà solo il personale del centro sportivo e i preparatori messi a sua disposizione da Massimo Cellino per Mario Balotelli un allenamento di circa 40 minuti con corsa attorno al campo ed esercizi con la palla atteso in vano alle 9.30 del mattino la sua convocazione è slittata alle 19 in solitaria lontano dalla squadra la cherel con Massimo Cellino prosegue come il braccio di ferro legale una guerra aperta senza esclusione di colpi la pala noto la pala noto invece è ferma da tempo lo sappiamo non ripartirà più questa stagione è stata annullata e quindi la N Brescia pensa già alla programmazione per la prossima di stagione pensa già al mercato e sta puntando a un centro boa di peso ed esperienza il Brescia all'attacco di Josip Verlic centro del Mladost in procinto di lasciare il club croato tremendamente in crisi la notizia rimbalzata da Zagabria non trova ancora la conferma del club lombardo ma è molto insistente Verlic è nato a Fiume il 25 aprile del 1986 è un pala notista del mondo cresciuto nella squadra della sua città natale ha disputato tre stagioni nel Barceloneta poi è volato in Brasile nel Fluminense dove ha acquisito la cittadinanza sportiva brasiliana ha disputato con la calottina verde oro le Olimpiadi di Rio sotto la guida di Ratko Rudic tornato poi in Europa e approdato in Serbia lì si è fermato solo per una stagione tornato poi in Croazia allo Iug per due anni è rientrato alla fine al Barceloneta l'anno successivo la prodo finale a Mladost nel mentre ha ripreso anche la cittadinanza sportiva croata ed è diventato un punto fermo della nazionale di Tukac stando a quanto riporta Water Polo Italy però la situazione attuale del Mladost sembra aver messo in crisi profonda le casse dello storico club che da un paio d'anni sembrava aver ritrovato quello smalto perso da un decennio ora le voci dell'arrivo a Brescia del giocatore e con questa notizia termina questa edizione giorno del nostro telegiornale qui su Elive vi ricordo che se volete restare aggiornati dovete semplicemente andare sul nostro sito www.elivebrescia.tv dove potete trovare tutte le notizie sempre aggiornate dalla nostra redazione dove potete anche seguire la diretta del nostro canale 16 e 197 del digitale terrestre in questo piccolo box espandibile a tutta pagina e visibile comodamente anche su tablet e smartphone se invece volete essere sempre informati in tempo reale sul vostro smartphone potete unirvi ai nostri canali telegram Elive Brescia News ed Elive Brescia Sport a seconda delle vostre preferenze personali finisce qui il nostro telegiornale io da parte mia vi ringrazio per averci seguito vi invito se vorrete a seguire la nostra edizione serale delle 19 condotta dal nostro direttore Paolo Bollani io allora vi ringrazio vi auguro una buona giornata e a presto 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 Grazie a tutti.